ok ragazzi come altra parte di questa campagna mi hanno segnalato con un rifugio templare esattamente praticamente pari a quello di lorenzo dei medici a firenze e allora è momento di entrare dove siamo finiti? sopra le travi sotto la pietra non è una tomba dell'assassino eh mi raccomando non lo è questa non si può aprire ma si può salire qua sopra ragazzi è la prima volta che lo faccio quindi un po' datemi agio che non si può fare niente con quel quadro sicuramente ci sono delle guardie forse madonna che bello che è alla faccia alla faccia qua ricorda molto il ricordo del duomo di firenze assomiglia veramente tanto trova la sala del tesoro si è facile sai ok direi di partire da qui forse è la cosa migliore da fare e andiamo qua e intanto un dente ce lo siamo tolto poi ecco il cazzo ce lo siamo tolto forse qui si buono tanto qua non è della sto fase che vanno collezionati cose presi alcol niente cioè qua possiamo tranquillamente andare dritti tanto non ci sono neanche scrigni da dover seguire e quindi andiamo tranquilli 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 che bella sta luce bellissimo vi prego riportateci assassin's creed così vi prego vi prego vi prego riportatecelo ce lo meritiamo bene ora ho modo di risalire in caso di caduta buono ok ok mmm 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 mo dove si va qua per forza tutto molto bello ma adesso che culo mi sta giustato all'ultimo fin là non ci salterà mai mamma mia vita ezio mi stanno flashando i led ok no non scendere per carità di dio mi sento un po' con le mani legate sapete ah ecco il trucco bastava solo avere coraggio boom ok buono palese che ci sia da salire perché c'è il banchetto si però storgiti un po' scivola bene che culo non era una cosa voluta però per fortuna è riuscita bellissimo penso che sia la missione di parkour più bella che abbia affrontato finora ma proprio cioè by far poi confido che ce ne saranno di migliori però questa è veramente tanta roba tanta roba via chisoba cheat via qui non caschiamo di sotto per favore e apriamo la porta ci ha già fatto fare il giro delle sette chiese proprio in tutti i sensi per andare a una misa alla porta cioè non è anche che bisogna andare in alto no per tipo scavalcare un mureto di una sagrestia c'è tutto qua di solito sono tre esatto infatti mi mancava il terzo ah c'è anche il quarto bellissimo 170.000 fiorini buttali via e adesso mi sa che saranno anche un pochino di più madonna Ezio ruba tutto ruba tutto ruba tutto tutto quello che c'è questo non è tutto però ok 2000 fiorini e ce ne andiamo e sopra le travi sotto la pietra se ne va vediamo dove veniamo risputate adesso a Venezia per fortuna su PS5 i tempi di caricamento sono un pochino più brevi a belli vicino Easy con le guardie che non si accorgono di nulla fantastico ebbene scusa non conoscete la legge stranieri le recenti viene a lido hanno causato cedimenti strutturali in alcuni sestieri della città va bene si ho capito carissimo ciao